Gabriele Viale, allora? Non ho parole, straordinario, commosso, non riesco a parlare. Provaci! No, abbiamo lavorato per questo, e adesso raccogliamo gioia, ed era giusto. In casa poi? Era giusto, sì. Bellissimo. Scusa. La felicità oggi è qua. Eh, è qua, sì. Forza Italia. Cosa pensi di questa bellissima gara? È una grande gara, grande Riccardo, grande Italia. Bravissimi. La felicità oggi è? La felicità oggi è Riccardo Scaletti. duevette are la bellissima gara. Butta Shezza. Bliud��ale. Un po' più che senna cutto. Cosa pensi della fronte è così? Chi…